Sei ancora lì? Apri subito il computer, vai all'email e iscriviti alla Scuola di Alta Formazione di Epigenetica. Un corso di più 10 weekend con tanti professori universitari, ma professionisti espertissimi nel loro ambito che proprio ci daranno la lettura di come interpretare il test epigenetico S-Drive che ci dà un'indicazione di dove inizia un danno. Quindi questa scuola, lezione dopo lezione, forma e soprattutto dà consapevolezza all'utente, a tutti gli operatori del benessere per far sì che ci sia tanta, tanta salute.